Il camion AST ha fornito ieri l'ora Pasqua approssimativa di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, a proprio in sud di Basilicata. Abbiamo raggiunto l'Akoum, che credo che le scariciamo, e questa è tutta Marfa pregata per il centro sociale, per l'aiutore umanitario di persone rifugiate in zona Asta, in Cluj, in Brasov, in Sighisoara, in Sovata, che abbiamo pregata in questo camion con Maimic e abbiamo già lì vicino a una città di giù Torre. Si incarica Marfa e la docema a collo. Dove è un attimo? Sì, è un attimo. Allo murco è un attimo tutto l'alimentare. Grazie a tutti. L'alimentare spanga. Grazie a tutti.